Compagnia del mister di Olé Brasil, l'ex calciatore Gil Baiano, anche nazionale carioca, a cui chiediamo un'impressione sul torneo di Viareggio, su questa partecipazione della sua compagnia. Sono un simbolo del Brasile. Sono molto freddo, ma senza neve. Con neve è difficile, ma penso a fare un buon campionato, un torneo, e fare tutto, passare per cima di tutto e sopra. Che impressioni vi siete fatte di San Benedetto della Riviera delle Palme? Achei un'estate buon'estate. Grazie, mister. Grazie. 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 Grazie.